Ciao amiche e ciao amici, questo video per attivare istantaneamente la legge dell'attrazione per attrarre l'amore. Spesso noi crediamo che per attivare la legge dell'attrazione servano energie, servano un duro lavoro. In realtà non è così, il tempo è soltanto un costrutto della nostra mente. Però dobbiamo renderci conto di una cosa, che la legge dell'attrazione non è il supermercato dei desideri. Non è che io sono innamorato di Francesca e allora inizio a dire, cara legge dell'attrazione, fammi avere Francesca perché io la desidero tanto e domattina Francesca bussa la mia porta lì, bella disponibile. Non funziona così, per diversi motivi. Primo perché ci sono questioni karmiche legate anche ad un'altra persona, Francesca in questo caso. E secondo che noi non possiamo dare un nome e cognome all'amore. Cioè noi possiamo attrarre l'amore perché la legge dell'attrazione è una legge di risonanza, è una legge che ci permette di vibrare a certe frequenze. Quindi possiamo attrarre anche istantaneamente l'amore nella nostra vita, ma non possiamo pretendere di dare un nome e un cognome. perché questo contrasta con quella che è la realtà. Dobbiamo renderci conto fondamentalmente di questo. Per cui, però la capacità di attrarre l'amore significa che vibreremo a una frequenza più alta e potremmo entrare in contatto veramente con parti di noi e con delle sensazioni di benessere. Che poi è quello che andiamo a ricercare. Se ognuno ci pensa, noi vogliamo stare bene alla fine, ma il nostro stare bene si manifesta attraverso sensazioni che noi proviamo, attraverso stati d'animo, attraverso la percezione sensoriale fondamentalmente interna ed esterna. E' un'illusione credere che sia proprio Francesca quella che può darmi la felicità. E' solo un'illusione che mi farà essere infelice. Per cui, mettiti in una posizione comoda, con la schiena retta ma non tesa, e chiudi dolcemente gli occhi. E mentre ascolti il suono della mia voce, respiri, e lascia che l'aria possa penetrare dentro i tuoi polmoni. E via via che continui ad ascoltare il suono della mia voce, il tuo corpo diventa sempre più pesante e rilassato, sempre più pesante e rilassato. Il tuo respiro si fa calma e regolare come il battito del tuo cuore si fa calma e regolare come il calma e regolare è il respiro del mare come il calma e regolare è il respiro dell'universo come il calma e regolare è l'energia dell'amore. L'energia dell'amore vibra ad una frequenza calma e regolare, senza interferenze, pulita, libera da ogni veleno mentale. L'amore ci permette di provare delle sensazioni molto positive. E quindi ti chiedo in questo momento, mentre ascolti il suono della mia voce e respiri e inizia a vibrare alla frequenza dell'amore, è di renderti conto di una sensazione di positività, di estasi in questo momento, in questo momento, in questo momento. E in questo momento ti chiedo di sintonizzarti su ciò che di profondo ti rende felice, superando ogni schema, andando verso ed oltre una sensazione di puro benessere, andando verso ed oltre la felicità, la felicità di sentirti parte integrante dell'universo. E quindi ti chiedo di dissolverti in questo momento in luce. Tutto l'universo si dissolve in luce. il luogo dove sei si diffonde in luce, si dissolve in luce. Tu ti dissolve in luce. Tutto ciò che puoi percepire si dissolve in luce, nella luce dell'amore. percepisci questa vibrazione e immagina te stesso come un corpo di luce dissolto in tutto l'universo. anche in quella persona a cui tieni tanto. Non c'è più differenza. Non c'è più battaglia. tu sei dentro tutti, dentro tutto l'universo e tutto l'universo è dentro di te e tutti sono dentro di te. Non c'è più divisione. E nell'unione bisogna essere felici. Quest'unione è della tua beatitudine in questo vuoto luminoso, un vuoto di luce. E ad ogni respiro senti diffondersi possente dentro di te una sensazione di profondo benessere. Di profondo benessere. Mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce. Di profondo benessere e di amore. e l'amore entrerà stabilmente nella tua vita e potrà manifestarsi in diversi modi. Si manifesterà l'energia dell'amore tramite persone che incontrerai. Si diffonderà l'energia dell'amore in ogni pensiero e diventerà carne della tua carne sangue del tuo sangue pensiero dei tuoi pensieri. E mentre continuo ancora ad ascoltare il suono della mia voce e respirare non so se ti rendi conto che qualcosa dentro di te è cambiato e quando aprirai gli occhi non potrai fare a meno di provare questa sensazione di benessere e di amore. e l'amore non potrà fare a meno di entrare costantemente nella tua vita. Per questo motivo nel nome dell'amore ti chiedo di fare un respiro profondo trattenere l'aria alcuni istanti poi ispirarla fuori fino in fondo con la bocca. Fai questo per tre volte dopodiché apri gli occhi essendo essendo in sintonia con l'amore. Bene questa meditazione è molto importante farla spesso perché permette di entrare veramente in sintonia con le energie profonde dell'amore dell'universo. Per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e riceverai un video di risposta. Ti chiedi inoltre se desideri la cortesia di condividere questo video con tutti i tuoi amici. Ciao